La narrazione sui giovani fannulloni sfaticati che perdono tempo sul divano nel teso del reddito di cittadinanza, l'ultima uscita del ministro Rolo Brigida l'ha infastidita anche un po'. Le dichiarazioni del ministro Alvinitali sono sconfessate dai numeri e mi dispiace che il ministro non abbia studiato e verificato che l'anno scorso di 890.000 persone impiegate nel comparto agricolo 100.000 provenivano da famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza. Se i giovani vanno formati sicuramente troveranno lavoro anche nel comparto agricolo nessuno ama stare sul divano e conosco tante persone che aspettano una possibilità. Il reddito di cittadinanza che obiettivamente è servito per colmare una soglia di povertà sempre più ampia è sempre sottotiro, lei come se lo spiega? È un attacco ai 5 stelle o al provvedimento in sì? Sicuramente è un attacco ai 5 stelle perché era un provvedimento epocale, poi tra l'altro presente in tutta Europa. Hanno cambiato il nome, forse dal 2024 si chiamerà MIA, misura di inclusione attiva. L'hanno modificata ma alla fine la sostanza è quella che noi abbiamo creato per sostenere le famiglie in difficoltà. Il Movimento 5 Stelle anche sul piano del PNRR sta muovendo una serie di critiche alla maggioranza anche se ha dato la disponibilità a discutere nell'interesse del Paese. Abbiamo dato la disponibilità di discutere nel bene del Paese, per i cittadini. Noi abbiamo il timore che questa maggioranza incapace di spendere i fondi del PNRR grazie al Presidente Conte che è riuscito a portare in Italia 209 miliardi dall'Europa ma c'è il serio rischio, c'è il serio timore di perdere questi fondi a causa dell'incapacità politica di questa maggioranza.